Tutto è rimasto lettera morta. Il processo, cheppure era stato avviato, si è impantanato nei soliti conflitti tra istituzioni, logiche politiche e interessi localistici che già denunciammo in precedenti servizi. Servizi nei quali si ribadiva l'assoluta necessità che il dimensionamento scolastico, ingrediente basilare per il funzionamento di tutto il sistema, rimanesse estraneo ad interessi personali e localistici. Il dimensionamento non riguarda certamente il numero delle dirigenze scolastiche, bensì la composizione delle classi. Chi afferma il contrario anche all'interno dell'ufficio scolastico regionale, nella migliore delle ipotesi, dimostra di avere una concezione apicale del sistema scolastico, una concezione che parte dall'alto, ossia dalle poltrone, dalla loro spartizione tra i dirigenti, dalla difesa di interessi localistici e non dal basso, cioè dai banchi, dalle classi, dal territorio, come avviene nel resto d'Italia. Senza un corretto piano di dimensionamento nel Molise, continueranno a sopravvivere scuole, doppioni e scuole sottodimensionate con pluriclassi, scempio della didattica e dell'apprendimento, mentre nei centri più grandi rimarranno le cosiddette classi pollaio, anche quando le aule sono piccole, con grave rischio per la sicurezza di alunni e docenti. La fase di stagnazione in questo settore è un dato inconfutabile, così come è inconfutabile la stretta connessione tra dimensionamento e sicurezza. Occorre individuare le scuole guardando anche all'evoluzione demografica, come è stato fatto in altre realtà regionali, per poter investire massicciamente nella costruzione o nell'adeguamento di edifici che diano tutte le garanzie. In mancanza di un piano vedremo costruire edifici sicuri ma senza alunni, mentre tanti altri scolari e studenti saranno costretti a vivere le giornate scolastiche in posti inadeguati o a cambiare sede ad ogni piccola scossa tellurica. Questo è il quadro, fuori dalle monotone asserzioni tautologiche e dai proclami autoreferenziali che ascoltiamo dai vari attori preposti al sistema scuola in Molise, i quali sembrano voler ignorare che la denuncia del mancato varo del piano di dimensionamento e del problema della sicurezza delle scuole viene proprio da una fetta della scuola stessa studenti, docenti e dirigenti scolastici e negarlo non aiuterà di certo a trovare le giuste soluzioni.